17 marzo 2018 Milano e, Giuve Real. Almeno nella testa di Zinedine Zidane, allenatore della casa blanca oggi, Banra bianconera ieri. La Juventus, forte e competitiva come l'anno scorso. Un avversario complicato. Abbiamo il 50% di possibilità, spiega durante la conferenza stampa che precede la sfida tra il suo Real e il Girone, Zizou apre anche l'album dei ricordi. Ogni volta che gioco contro la Juve mi emoziono per i 5 anni che sono stato L. Juventus, Allegri, Real grande avversario ma ci penso dopo Pasqua. Grazie per la visione!